Stava andando ad assistere un motociclista ferito in uno scontro dall'altro lato della carreggiata la donna di 35 anni rimasta pesantemente coinvolta nell'incidente stradale di domenica sera al termine del ponte translagunare tra Chioggia e Valli. E quanto emerge dai rilevi sul caso che vede la 35enne di Piove di Sacco ancora in prognosi riservata all'ospedale di Mestre con gravi traumi all'addome. Lei e il marito stavano tornando in auto dalla giornata trascorsa al mare di Sottomarina quando hanno accostato per sincerarsi delle condizioni del motociclista urtato da una vettura in direzione Chioggia nei pressi dell'abitazione di fronte allo stabilimento Pesca Mar. I due sono scesi dalla propria vettura durante la coda ma mentre il marito è riuscito a raggiungerla in denne la donna è stata falciata dalla Fiat 500 condotta da un anziano di Porto Viro poi sequestrata dai carabinieri. Un testimone poi diventato soccorritore ha visto la malcapitata letteralmente volare sbalzata dall'urto. Suo marito si è precipitato lungo il fossato esterno per recuperarla la situazione è apparsa subito grave. Un incidente stradale è avvenuto ieri sera attorno alle ore 22 in via Marconi a Rosolina nei pressi di un passaggio a livello. Lo scontro ha riguardato un'auto e uno scooter con due ragazzi a bordo entrambi di 17 anni uno residente a Chioggia e l'altro a Sant'Anna. Nell'urto hanno riportato fratture rispettivamente alla gamba e al bacino e sono stati ricoverati all'ospedale di Rovigo. Non è ancora chiara la dinamica dell'avvenuto. I carabinieri di Chioggia stanno indagando su una presunta serie di furti di collane d'oro avvenuta sabato 1 giugno durante la festa Holi nella spiaggia dello stabilimento Sand di Sottomarina. Almeno tre persone hanno lamentato la sottrazione di preziosi monili che sarebbe avvenuta con destrezza nel piano dell'evento, assai partecipato e apprezzato con il tutto esaurito, approfittando magari del trambusto provocato dallo spargimento delle famose polverine colorate che caratterizzano l'iniziativa. Sono stati colpiti due maschi e una femmina, sia di Chioggia che delle località circostanti. Non è ancora chiaro quanti di loro ed eventuali altri hanno già denunciato il fatto alle forze dell'ordine, sapendo che hanno tempo tre mesi dall'avvenuto fatto criminoso, che logicamente non può vedere tra i responsabili, gli organizzatori né il locale. La giunta comunale ha deciso, il mercato ittico all'ingrosso traslocherà nella zona nord dell'isola Saloni, previa analisi dei costi e dei benefici. Lo ha messo nero su bianco in una delibera di giunta approvata all'unanimità dei presenti, assente solo il sessore Frizziero, quindi anche con il consenso del vice sindaco Marco Veronese, tra l'altro residente nell'isola, e dell'assessore alla pesca Daniele Stecco, che in un recente passato avevano dimostrato perplessità per l'ordine del giorno sottoposto dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, poi ritirato, ma sempre sostenuto dal sindaco. Per la precisione, lo scorso 24 maggio è la giunta ritenuto strategico lo spostamento del mercato da via Poli, in un'area che offre maggiori possibilità di ampliamento e potenziamento, non solo del mercato stesso, ma anche delle attività strettamente corredate, dal momento che l'attuale struttura presenta situazioni di criticità dal punto di vista della viabilità, sicurezza e manutenzione delle strade, essendo situata all'interno della città, tra due centri storici. Il Comune riconosce che l'isola di Saloni già oggi risulta in grave sofferenza per le dimensioni e le caratteristiche della viabilità esistente, promiscua per usi produttivi e residenziali, con grave pericolo per i soggetti più devoli come pedoni e ciclisti, pericolo testimoniato purtroppo anche da casi recenti. Tuttavia ritiene che lo spostamento dell'intero polio ittico, quindi ci si chiede anche la pescheria al minuto, ai Saloni, sia una prospettiva interessante per Chioggia, ma che possa essere considerata solo a seguito di un'analisi costi-benefici, con una particolare attenzione alla necessità di separazione della mobilità residenziale da quella produttiva, anche per non riprodurre le criticità di convivenza presenti nell'attuale collocazione nel mercato ittico. Pertanto, l'atto di indirizzo manifesta la volontà di individuare l'isola dei Saloni quale nuova sede del polio ittico, condizionando tale individuazione agli esiti di un'analisi costi-benefici e demanda ai settori e agli uffici competenti gli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti necessari al concretizzare la delibera stessa, comunicata già all'autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale, alla Capitaneria di Porto di Chioggia, all'Agenzia del Temanio, al Proveditorato delle Opere Pubbliche, al Genio Civile di Venezia, affinché vengano individuate le intese necessarie a rendere concreta l'ipotesi in esame. Resta da vedere la reazione del Comitato tra i residenti dell'Isola, che lo scorso 4 aprile, durante un incontro al Museo Civico e più di recente, il 21 maggio, in occasione del sopraluogo della Sesta Commissione Consiliare, aveva espresso tutte le sue contrarietà all'idea. Domani, mercoledì 5 giugno, il parcheggio Ovest dell'Isola dell'Unione, in carico alla società partecipata SST, rimarrà chiuso alla sosta veicolare per le operazioni di rifacimento della segna elettrica orizzontale. Il divieto di stallo inizia alle ore 7 e terminerà alle ore 19, riguardando anche i titolari di abbonamento. Il giorno è stato scelto per evitare disagi al mercato settimanale del giovedì e in anticipo sullo svolgimento delle manifestazioni estive proprio nella zona, a cominciare dalla festa del pesce azzurro che impegnerà l'Isola dell'Unione dal 17 al 30 di questo stesso mese. Secondo appuntamento questa sera dalle ore 21 all'Auditorium San Nicolò per l'edizione 2019 di Chioggia Incontra, la rassegna curata dall'Associazione Il Fondaco che quest'anno è dedicata alla comunicazione. Incontriamoci a tavola al tema della serata che avrà quali ospiti Luigi Biasetto, pasticciere padovano già campione del mondo, Paolo Massobrio, critico enogastronomico della stampa e responsabile del Golosario e Simone Padoan, il re della pizza gourmet ai Tigli di San Bonifacio. L'ingresso è gratuito. Il prossimo appuntamento di Chioggia Incontra, molto atteso, è per venerdì 14 giugno dalle ore 18 alla chiesa di Santa Caterina con Massimo Cacciari che conferirà sull'argomento pensare per immagini. Seguiranno nel weekend successivo Ottavia Piccolo e Antonia Arslan.